Buongiorno! Buongiorno a questa cazzo. Ma perché? Perché piove qui. E beh, che dove fai? Volevo dire a spazio. Metti il cappellino a Natale. Ma qui mi metto, fermate! Metti il cappellino a Natale. Ma perché fai? Perché sei tanto bellino quel cappellino. Ma io non so bellino per niente, che so molto. Ora avanza è bello. Fai il balletto e l'ognometto. Ehi! Il balletto e l'ognometto. Io non ne so fare. Così, muove, dai. Sì. Vedi quanto è bellino? Vedi quanto è bellino? Vedi quanto è bellino? Ehi sto faccio cucina, che cazzo è un cazzo da fare. Fai il ballettino. Se non gli dobbiamo il peso, se non gli dobbiamo l'acqua. Fai il ballettino, un attimo! Ma fai il balletto po' che non mi leggo dritto! Fai il ballettino, dai! Sì, cazzo! Nooo! Ecco, vedi, sei sempre incazzato, vedi? Sì, sì. C'ho anche la maglietta che si è sempre incazzata. E tra l'altro questa ancora si trova. Tu non... tu hai da vedere anche i merotti i coglioni, capito? E da me di telefonare! Che merotti i coglioni! Bene, bene! Tu! Telefona da un altro, uno da me! Testa di cazzo! Che merotti i coglioni! Che buon Natale! Che buon Natale! Buon Natale! Buon Natale a questa cazzo! Un merotti i coglioni! Un merotti i coglioni! Che io non ti voglio sentire! Hai capito? E va a fanculo! Chi è? Ma che cazzo ne so chi è! Ma se non hanno fatto gli auguri, no? Perché non ci sento! No, non ha fatto niente! Che io gli auguro e non li voglio! Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Guarda la p***a! Che c'è qua? Che la leva? Questa mette la... Sul culo! Che c'è la fa con questa spina? Eh, ecco, accende quella! E attacchela! Eh? Attacchelo! Non c'entra! Così? Più un qua! Beh ferma! Fermate! Ogni ego! Alloraaka ho un po' di cu**a. Accedente da questa caze di cazzo, qtuza di c***a di tu, che da Grossi, ha chiusato! Ha fattole chi contains delle marnie delle mame di co** province! Magari stai nel tempo nei metri piedi! Ma doveva farei che c***o? Fermate! È la colpa! E' quella testa di c** rece di Conti che ha chiuslo. ha chiusato e beh ma lui che colpa ha? ma come che colpa ha? se non era chiuso ti arrivava di coglione almeno scappava e vive via e dove andavo? invece sta sempre in mezzo i piedi a rompere i coglioni dove andavo? dove ti fai? non mi frega niente dove andavo? a figa oh quello magari era bello tutto sonno telefono e dove sto zitto? va la cuccia qua va via questo che è? un cane? è un cane un postaiatrino? quando avete la torta del testo in casa ragazzi guarda qua la torta del testo com'è o no? com'è? ma levati di coglioni che c'è? che c'è? eh? o no? che hai fatto? è del Giappangu il testo di cazzo non ha fatto male 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 eh? eh? ti guarda sempre ce l'hai sopra? nooo guarda che dispettoso la dieta dei cappelletti anche oggi guardate quanto è bello quanto può essere bello un cappelletto guardate è proprio un cappellettino cappellettato mmm sperava dovesse piovere ma tu quando ce l'hai messo? rotti i coglioni? e invece sta nevicando ancora sta nevicando riaprono tutti gli impianti incredibili anche se non potrebbero questa sera questa sera preschia il jumper tutti quanti è tutto pronto incredibile guardate quanto ha nevicato ha coperto ha coperto ragazzi ha coperto il cazzo questo è uno strano vediamo con marzughe vai oh 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 arzughe oh oh no arzughe l'intingo oh l'intingo niente mi va su raga mi va su boh per quanto ho mangiato questi giorni mi va su nemmeno la macchina niente chi la fa ho mangiato troppo mi va su la macchina forse devo mangiare meno cappelletti boh comunque eccolo il mio pandorino eh eh il mio pandoro sembri un pandoro con queste cose ma te tu invece mi sembri in testa di caccia ma si va per i pandoro eh che sembri un pandoro eh proprio un pandoro un pandoro un pandoro mettala dai tu fermi che le mani un pandoro eh un pandoro no andiamo subito al bar incredibile si stanno consultando stanno pensando se è scalzo o no è scalzo forse era scalzo a quell'epoca perché le scarpe ancora non c'erano stanno ecco stanno decidendo se è bestemmia o no vediamo scalzo o non scalzo coi sandali poteva essere coi sandali ma non scalzo attenzione ammunizione ammunizione il bar il bar ha deciso ammunizioni per il mio pandoro doppia no doppia escuzione oh vabbè sta pieno sta pieno le polpette raga raga sta pieno guardate le polpette la torta c'è 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 fermi che è bella fermi che che cuoca indomabile eh guarda che doppio sembri un tucano guarda sembra un po' ursula la sirenetta io la gioia darò a chi vorrà io la gioia darò ma no non non che spettacolo eh tutto fatto a mano sti giorni mi hai fatto ingrassare 4 kg va bene? va bene va bene? ragazzi da lunedì ritorno a stecchetta sti cazzi la festa la famiglia mangiare sta bene ma sono le cose migliori è uno che deve fare poi quando si ricomincia a lavorare si tribola anche con gli allenamenti però adesso sta pieno di da mangiare utilizzando un prosciutto di fiocco veramente ottimo vero no? ti piace? a me sì siamo appassionati di prosciutto vero? eh ma soprattutto guarda mamma mia che spettacolo la nave di polpette mangio le polpette guardate incredibile sono nello sbrodolone guarda che lavoro è maico eh sono nello sbrodolone 30 aprile e anche aliadino come sono ste polpette? la fine del mondo sono evidenti illegali eh ma il mic che corronce mamma mia raga comunque veramente cioè clamoroso quasi 50 polpette mangiate in uno due io mamma non la toccate nonno non la mangia 50 polpette in tre sta pieno mi sono sporcavo tutto come erano? 50 polpette piccoline è in piccoline ma è sempre 50 sì sì ma raga le polpette sono divine buon pettino buon pettino grazie nonna maria grazie nonna maria grazie nonna maria questo cane ha un bellissimo pelo eh il pelo quello bello è quello la surca maaa quello è bello eccolo sta sempre a pensare ma questo è il cane è vero sta sempre a guardare sta sempre sempre a guardare il tuo è vero no? chi stai a guardare? niente chi stai a guardare? ma che guarda? che stai a guardare? ma non guardo niente che stai a guardare? o no? ma ti vuoi affanculo